Voglio dedicare questa canzone a tutti i parlamentari italiani a tutte le loro mogli, a tutte le loro puntane, ma soprattutto al premier che c'era prima, al premier che c'è adesso e al premier che verrà. Ma in fondo è dedicata soprattutto a chi ha perso il diritto di essere creduto. Non si può andare in giro e indoro e mai come il metro, avere un bel conto in manca per rilassarsi un po', comprare dieci case sparse in tutto il mondo, no, no, non si può, non si può. Bandare a quel paese chi non è cortese e andare a cena fuori, chi una volta al mese e non banare a spese, non si può, no. A meno che tu non sia il presidente del consiglio, o sua figlia, o suo figlio, il ministro degli interni, o suo amore di tutti i suoi fratelli, non si può, non si può, non si può, non si può avere le foto scandalistiche sui giornali, le tette di guadoglie al vento, proprio non si può, portarsi a letto le vent'anni quando hai 70 anni e fare i danni. Non si può fare colazione in camera ogni mattina e per colarsi bene avere una sola medicina di marca colombiana, non si può, non si può, non si può avere una sola medicina, o suo amore di tutti i suoi fratelli, la tenatore della nazionale, o meglio ancora il cardinale. Il presidente del consiglio, o sua figlia, o suo figlio, il ministro degli interni, o sua amore di tutti i suoi fratelli, 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 fratelli. Ezie, fratelli, fratelli, fratelli. Grazie Nel consiglio, oh sua figlia, oh sua figlia Nel consiglio, oh sua figlia Il ministro degli interni, oh sua moglie e tutti i suoi fratelli Nel suo amore e tutti i suoi fratelli L'allenatore della Nazionale O meglio ancora il Cardinale E ancora il Cardinale Che facciamo, aspetta Allora, io metto un giro a mio maestro Grazie Prado a elezionare di più Che il maestro qui non vi sente Maestro è lui, no io Fa così Il presidente del consiglio, oh sua figlia, oh sua figlia Oh sua figlia, oh suo figlio Il ministro degli interni, oh sua moglie e tutti i suoi fratelli Sì però, andate fuori tempo Se ne mosci andate fuori tempo, ma com'è? Fermali maestro, un secondo Allora Poi il maestro si cazza con me Maestro Vai un attimo Vai un attimo Vai di quinta, vai Andate a tre pistone, bocca da quattro Allora Il presidente del consiglio, oh sua figlia, oh suo figlio Il ministro degli interni, oh sua moglie e tutti i suoi fratelli Sono tanti I fratelli L'allenatore della nazionale O meglio ancora il cardinale E' ancora il cardinale Baraba 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 Juan periodicamente What the things you do Music